Marie Curie era una grande scienziata, ha vinto addirittura due premi Nobel. Sei donne che hanno cambiato il mondo, la storia di sei scienziate per raccontare il contributo delle donne alla storia dell'umanità e al progresso. A raccontarle Gabriella Grayson negli spazi della centrale di AISA Impianti di San Zeno agli studenti aretini. Inizia a immaginare come si muovono gli atomi semplicemente guardando i bambini nel parco che giocano. Io do la possibilità a tutti di immedesimarsi nelle storie dei grandi della scienza, dunque per loro sentir parlare di Marie Curie, di Einstein, di Heisenberg, sono nomi che anche loro hanno adesso facilità nel sapere chi sono, Schrödinger per il suo famoso gatto. Ecco, i miei fisici del XX secolo li porto ovunque con me e anche tra i ragazzi. Scienziata, scrittrice e divulgatrice, spesso definita come la rockstar della fisica, ha accompagnato oltre mille bambini e ragazzi delle scuole aretine in un percorso divulgativo e laboratoriale, con un monologo tratto dal suo libro Sei donne che hanno cambiato il mondo. Racconto le donne della scienza perché innanzitutto io sono una donna e perché il loro percorso è stato difficile nel corso degli anni. Le donne è stato impedito di progredire nelle facoltà scientifiche, non è che hanno un cervello diverso dagli altri. Rita Levi Montalcini diceva, il cervello degli uomini e quello delle donne sono uguali, il resto sono scemenze. E invece in tanti hanno fatto credere che le donne sono più propense ad occuparsi di altre cose, guardare i figli, curare la famiglia, i malati, non è così. Un appuntamento promosso all'interno del progetto Donne in Scienza. L'obiettivo è vincere il muro di resistenza che le bambine, poi le ragazzine, poi le donne incontrano se fanno scelte orientate verso le discipline scientifiche. Noi crediamo che specialmente in alcune comunità di genitori ci sia proprio bisogno di abbatterlo questo muro perché ci sono tante energie e tante intelligenze da liberare. Un'iniziativa che ha visto la partecipazione di Zero Spreco Edu. L'impianto di San Zeno, questa centrale di recupero, sta diventando anche un polo didattico e scientifico per fare divulgazione di tutte quelle materie che effettivamente diventano sempre più importanti, quindi le materie scientifiche e matematiche. E questo polo così facendo va a restituire sotto forma anche di cultura e di informazione e di formazione quello che chiaramente con il suo peso toglie per la sua presenza.